Luca Angeli, pochi mesi fa, ha aperto a Roma il primo Amaro Bar d'Italia. È il segnale di una tendenza in atto. L'Amaro sta prendendo sempre più campo nella mixologia italiana perché ha dei potenziali enormi, soprattutto sui twist, sulla creazione di nuovi cocktail, appunto a base di questi prodotti, dove la parte importante sono le erbe, la territorialità. Quindi l'Amaro si presta anche come ingrediente per delle rivisitazioni dei classici, dei twist, per esempio? Un esempio importante può essere i negroni, come ad esempio Kina Clementi. In questo caso andiamo ad utilizzare 2 CL di Kina Clementi, 2 CL di Gin Hendrix e 5 CL di Vernut Lustau perché dobbiamo cercare di creare un cocktail equilibrato. La ricetta del nostro Moscow Mio Km Zero, Argalà Amaro Alpino 2 CL, 4 CL di Italicus, di cuore al bergamotto, succo di limone e del ginger beer. C'è qualcosa che bisogna sapere? L'errore da evitare è il più grossolano. Non assaggiare. Assaggiateli, provateli e vedrete che avrete un grandissimo risultato. Grazie.